Ciao a tutti e benvenuti nel nostro breve video In questo video vi faremo vedere una piccola parte del nostro viaggio di nozze Ci troviamo in Thailandia, esattamente al mercato galleggiante Guardatelo, mamma mia Eccoci arrivati al mercato galleggiante Adesso c'è una cosa Caos E poco Si, poco Si, poco Si, signore Preparano a mangiare a casa E Claudia non ce la mangia Aspetta, aspetta, aspetta Non te ne andare Clicca qui per iscriverti al canale Cavaleri Family Clicca qui oppure qui se vuoi continuare a guardare uno dei nostri video Ciao a tutti